numero 5 set di macina pepe e sale realizzato in rovere naturale acciaio inossidabile e ceramica il set si adatta a qualsiasi stile di arredamento il macina pepe in rovere è impermeabile e resistente all'umidità protegge il sale e il pepe dall'umidità e lo mantiene fresco a lungo semplice la ricarica una finestra in acrilico a vista aiuta a distinguere facilmente le spezie un dado girevole sulla parte superiore regola la macinatura se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 set perfetto per tutti i tipi di sale e pepe il macinino in ceramica è regolabile con 5 livelli di macinatura da grossolana a fine il set ha un design moderno è realizzato in acciaio inox e vetro design semplice ed essenziale per un look elegante un coperchio di chiusura mantiene le spezie fresche lontane da umidità e polvere queste macine non sono vendute piene è necessario riempirle con spezie a vostra scelta originale idea regalo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 set di macina sale e pepe in acciaio inox e vetro di alta qualità nella confezione è compreso un vassoio in legno di bambù il macinino realizzato in ceramica di alta qualità può essere facilmente regolato in qualsiasi momento secondo le proprie esigenze la dimensione di questo set è perfetta per evitare costanti ricariche il macinino è alto 13 centimetri e mezzo i barattoli di vetro conterranno le vostre spezie preferite come il sale rosa dell'himalaya il pepe in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 2 set di macina sale e pepe ottimo prodotto per design e funzionalità il set in ceramica di alta qualità è perfetto per sale pepe e spezie e garantisce una granulazione ottimale da molto fine a grossolana set perfetto come regalo il macina pepe sale è in vetro ed è facile da riempire lo speciale tappo aromatico assicura una freschezza duratura nel tempo l'attenta selezione dei materiali e la versatilità creano un look unico trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 macina pepe e sale con funzionamento a pressione la macinatura è regolabile il corpo e la base sono in acciaio inox spazzolato ha un funzionamento a batterie non incluse nella confezione l'illuminazione alla base dei macinatori di pepe e sale si attiva durante l'uso il prodotto è disponibile nei colore acciaio nero e bronzo ottimo prodotto il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione